Sono molto al corso. Ma certo, io per l'altro... Ma a volte si vede come si fa a entrare in contatto con lei perché a volte ci dà degli spunti di repressione che sono fantastici. Anche l'ultimo sull'intelligenza artificiale, che riuso a migliorare una lettura di un fisico. A me è stato lei a dare quelle... dicendo che l'intelligenza artificiale non è correlata alla potenza di caldo al numero di... che la potenza dei computer non è correlata con l'aumento della capacità di... No, perché uno... Io ho cercato di ritrovarlo, non so. No, io mi sono interessato in passato per la correlazione tra l'immagine e i testi, ma si fanno di riguardo a diciamo... con il ricopratica, il fisico, per esempio, per esempio in pericolare. Ma quando devo dire... guarda di cagliato, vedi? Vedi? Mi piace aver chiesto così male, ma non sono capace di spiegare con la mira. Questa devo... un po' di risoluzione per il pacato qualche resto qualcuno dice ma lei è il candido Antonio posso? Io sono Vanni Zagnoli ciao posso rubarti il piacere che ti chiedevo anni fa? di riassumere la tua storia in video? lo fai questo?